La buona notizia è che sono bastate 24 ore per risolvere la situazione. Dal pomeriggio infatti le acque del litorale riminese sono tornate tutte balneabili. I nuovi campionamenti di Arpae hanno evidenziato che i livelli di schierichi a coli sono rientrati ampiamente nella norma. Restano da indagare però le cause di un evento inatteso. Secondo i tecnici l'anomalia dei campionamenti di martedì 26 luglio è dovuta ad un insieme di condizioni meteorologiche, idrologiche e marine eccezionali per la Romagna. L'elevata temperatura dell'acqua che da diverse settimane uscilla intorno ai 30 gradi, la prolungata assenza di ventilazione, lo scarso ricambio delle acque, la mancata diluizione causa siccità delle emissioni nei corsi d'acqua che arrivano al mare. Inoltre per la prima volta in 60 anni 12 stazioni meteo sul territorio hanno registrato per più giorni consecutivi temperature superiori ai 40 gradi. I valori anomali in mare erano stati registrati in 28 punti della costa, 26 dei quali proprio nel riminese, ma già ieri alcuni erano tornati nella norma. Nuovi campionamenti sono ora previsti per il 22 agosto. Un evento straordinario che in base alle serie storiche difficilmente potrà ripetersi, rassicura l'assessore regionale all'ambiente, Priolo. Resta però l'ecomediatica avuta in tutto il paese dai divieti di balneazione, con un danno di immagine pesante per la riviera proprio nel momento clou della stagione. Comprendo naturalmente che quando si verificano questi fenomeni ci sia preoccupazione fra gli operatori turistici. Riflessi economici mi auguro proprio di no. Ora io non ho segnalazioni diciamo così di disdette di prenotazioni particolarmente rilevanti. Magari qualche disdetta c'è stata, ma insomma io penso che visto il tempo e visto anche la stagione, se qualcuno ha disdetto penso che immediatamente quelle camere lì possono essere riempite da nuove prenotazioni, soprattutto adesso che l'ordinanza è stata revocata. Noi siamo persuasi che anche questo metodo di controllo sia una garanzia anche per il nostro turismo. Noi abbiamo bisogno di restituire sempre la consapevolezza che la qualità delle acque è costantemente monitorata e così avviene. Il sistema di controllo e di monitoraggio dell'acqua del mare in Emilia-Romagna è tra i più puntuali e trasparenti d'Italia. Lo premettono in una nota congiunta i sindaci dei comuni costieri della provincia di Rimini che però storcono il naso sul fatto che l'incontro tecnico convocato in mattinata non abbia risolti i dubbi sulle anomalie dei rilevamenti del 26 luglio. La richiesta unanime a Regione ed Arpae è di approfondire scientificamente i fatti per individuare un'ipotesi in grado di evitare in futuro eventi improvvisi come questo e di farlo senza escludere alcuna possibilità, ripercorrendo l'intera filiera che dal prelievo in mare porta il campione in laboratorio. I comuni chiedono poi di essere coinvolti in un gruppo di lavoro sul tema e che già dal prossimo campionamento sia predisposto un modulo più tempestivo di comunicazione dei risultati agli enti locali. Dal punto di vista turistico invece l'auspicio è che la Regione metta mano ad un piano di comunicazione rivolto ai media nazionali e internazionali per promuovere l'alta qualità del mare adriatico. Dall'assessore regionale Prioli invece la risposta quello che ieri il Comune di Rimini aveva definito un mistero, vale a dire i risultati dei campionamenti commissionati dalla stessa amministrazione che smentivano quelli anomali di Arpae. Gli unici che possono fare dal punto di vista proprio istituzionale i rilievi è Arpae e l'ASL. Il Comune di Rimini per scrupola ha deciso di fare un'analisi tecnico-scientifica che è differente da quella nostra che è validata a livello nazionale e che è discosta dai parametri scientifici e dalle caratteristiche tecniche che noi utilizziamo con il metodo che è riconosciuto dal punto di vista della ricerca anche scientifica. Quello che ho detto al Comune di Rimini è che noi dobbiamo essere insieme in questa analisi sempre più puntuale per cui ci dovremo e ci potremo anche confrontare con metodologie diverse però la loro metodologia scientificamente non è considerata quella adeguata per le acque dell'Adriatico. Grazie. Grazie.